In tutto il tuo percorso c'è un'immagine che ti sintetizza? Una bella domanda, non semplice. Un'immagine che mi sintetizza? In questo momento vorrei dire che è una non immagine, è uno schermo senza immagini che ne potrebbe contenere mille ma mi sento di dire questo. Perché sto lavorando ultimamente proprio su questo, è un tentativo di provare a chiudere gli occhi nei confronti della visione, per avere anche un discorso critico nei confronti delle troppe immagini che noi osserviamo che ci saltano agli occhi. Quindi ti rispondo in questo modo. L'immagine che in questo momento mi rappresenta o sintetizza tutto è una non immagine, uno schermo neutro. C'è stato un momento in cui il narrativo era parte del tuo percorso e poi è diventato sempre più lontano come idea. Pensi che ci sia la possibilità che tu possa fare delle cose che abbiano all'interno quel tipo di percorso? Se per narrativo intendi la narrazione testuale lineare, penso di no. O forse, non lo so, poi il futuro ci riserva belle e brutte sorprese a tutti. Però per me la narrazione sta già nell'immagine. Quindi già un'immagine è ricca di testo, è ricca di suono pur essendo muta, è ricca di storia purtroppo o per fortuna non lo sappiamo. Quindi se per narrativo intendi qualcuno che nel momento in cui ti siedi in una sala, ti prende per mano e ti porta passo dopo passo, dopo due ore, dieci ore o mezz'ora al termine del racconto, ti rispondo che in questo momento non sono interessato a questo tipo di narrazione. Quello invece a cui io sono più legato, interessato o tentato è una narrazione creata dallo stesso spettatore più che dall'autore. Cioè la capacità, la libertà, dar libertà allo spettatore di creare una narrazione osservando dell'immagine, ascoltando dei suoni. Proprio per renderlo attivo, scuoterlo dalla sua passività, dalla sua apatia e afasia e in qualche modo renderlo protagonista, partecipe, attivo appunto della visione, dell'ascolto. Quando io guardo qualcosa di tuo, a volte mi sento per niente rassicurato, quindi il sentimento è spesso contrastante, però non è una cosa che mi disturba. Voglio capire se, anche per te, quando vedi le tue cose c'è lo stesso sentimento. Allora, intanto non siamo nati per rassicurare gli altri e per fortuna l'arte in generale non è fatta per rassicurare, anzi. L'arte che rassicura, che acquieta e da un lato è interessante, dipende poi dal tipo di arte. Sicuramente qualcuno diceva non sono nato per rendervi la vita tranquilla, eccetera. E quindi mi dispiace che a te non rassicuri, però è un tuo problema. E ne sono anzi, ne sono molto felice che tu non sei sicuro, ecco, più che rassicurato non sei sicuro quando vedi le mie cose. Io non lo so, insomma. Nel momento in cui le faccio posso dirti che godo proprio come un maiale, perché mi piace molto il filmare. E anzi, nel momento in cui io sento, diciamo, questo vuol dire che ci sto dentro. E poi quando le rivedo, se ho provato, diciamo, delle sensazioni positive durante le riprese, nella visione finale queste si rimanifestano. Ed è, diciamo, difficile che se invece non ho provato queste sensazioni, è difficile che poi il film venga fuori. Quindi io faccio, diciamo, molto, utilizzo soltanto quelle immagini, quelle riprese che mi hanno dato in fase di ripresa una certa sensazione. Perché penso che sia, per quanto mi riguarda, non solo, la fase più importante della realizzazione di un lavoro filmico.